Bene, grazie, grazie senatore, noi abbiamo analizzato le varie proposte pervenute e nella complessità e nella serietà dei numeri anche che sottendono a questa importante problematica che è lo spreco alimentare, dove vediamo appunto problematiche crescenti e anche, come dire, che lasciano anche un po' desiderosi di una soluzione diversa rispetto a quello che sta avvenendo a livello globale. Noi abbiamo appunto analizzato il contenuto delle tre leggi e trovato apprezzabile il lavoro fatto dalle varie proposte, forse abbiamo trovato che esiste un po', sono parziali nell'affrontare il problema, un po' inficiando a priori l'obiettivo. Ecco, la proposta 972 che ci perviene pone grande attenzione, forse un po' eccessiva, rispetto al logo, ma è una buona idea e quindi quella di finanziare e premiare progetti innovativi in questo campo. Ecco, sono quindi auspicabili anche azioni di educazione alimentare dei consumatori per indirizzarli ad una spesa più consapevole e limitare quindi allo stretto indispensabile in un'ottica di mitigazione dello spreco alimentare stesso. La proposta 1145, noi troviamo molto positivo finanziare progetti di riduzione dello spreco di cibo, promuovendo un cambiamento di mentalità. È ottimo promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle migliori pratiche, come l'asporto del cibo avanzato, questa è una cosa fondamentale. È interessante anche la collaborazione con gli enti del terzo settore, mentre riteniamo che l'organizzazione a livello dei comuni sia un po' troppo locale e che i progetti dovrebbero avere una regia un po' più alta. Sono auspicabile per la finalità di cui al comma 1 anche azioni di educazione alimentare dei consumatori per indirizzarli ad una spesa consapevole e limitata allo stretto indispensabile in un'ottica di mitigazione dello spreco alimentare. La proposta invece 1167 è senz'alto la più completa, positiva è la definizione degli obiettivi di riduzione degli sprechi entro il 2025 e il 2030. L'accessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale dietro convenzioni e patti. Molto importante è anche il coinvolgimento del settore alimentare della grande distribuzione, con l'obbligo di stipulare convenzioni con soggetti donatori per l'accessione di eccedenze alimentari e la possibilità di credito d'imposta per gli operatori alimentari che effettuano donazioni. Positiva è anche il rifinanziamento del fondo per la distribuzione delle derate alimentari e l'istituzione di un fondo nazionale per i progetti innovativi. La proposta inoltre tratta un tema che risulta avere anche attinenza con la materia del ritiro del mercato dei prodotti ortofrutti, di cui il regolamento 2022-126 intesi quali ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita, sia dei ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, quale ad esempio la distillazione dei prodotti. A tal fine si evidenzia l'opportunità di raccordare il testo del DDL in bozza con la vigente normativa sopra citata, onde evitare possibili contrasti tra le due norme di diverso rango o problemi applicativi futuri. Sono spiegabili per la finalità di cui al comma 1 anche azioni di educazione alimentare dei consumatori per indirizzarli ad una spesa consapevoli e limitata allo stretto indispensabile in un'ottica di mitigazione dello spreco alimentare. Nel caso delle modifiche alla legge GADDA, l'accorpamento tra settore alimentare e farmaceutico, la cui regolazione andrebbe tenuta completamente separata, data la notevole diversità di funzionamento delle due filiere. La legge nazionale dovrebbe promuovere e finanziare un quadro organico di azioni, pertanto si auspica di potenziare la parte di educazione alimentare che evidenzi il percorso della filiera dalla terra alla tavola. Corsi ben strutturati di educazione ambientale, alimentare e percorsi di sostenibilità dedicati alle scuole con la collaborazione della sanità. Più finanziamenti alla ricerca applicata per progetti innovativi, materiali, macchinari e ricupero di sottoprodotti. Queste sono le indicazioni che sono emesse dalla nostra analisi, senatore. Grazie, Assessore.